Come Italia Viva siamo in piazza, qui a Roma, come a Firenze, Milano, Genova, in tutta Italia per le tantissime manifestazioni, sorte spontaneamente da parte della società civile per dare all'Italia una speranza. Noi che siamo quelli che hanno messo a repentaglio tutto per avere Draghi alla Guida del Paese, oggi in queste ore continuiamo a fare l'impossibile perché si chiuda la pagina di quel teatrino tragicomico messo in piedi dal Movimento 5 Stelle. Questa piazza con tanti giovani, con tante persone ha testimonianza di un senso di soddisfazione che c'è in Italia all'idea che Mario Draghi vada via perché c'è qualcuno che mette davanti i suoi interessi personali. Non è una piazza di parte, è una piazza che chiede a Mario Draghi di restare al suo posto per il semplice motivo che la presenza di Draghi a Palazzo Chigi è una garanzia per questo Paese.